cari amici oggi vi parlo dal giardino dell'angelo col telescopio nello spazio profondo osserviamo galassie di milioni di anni perché la loro luce non è coperta da altra luce il pianeta Nibiru non è visibile perché è un pianeta oscuro in questo momento di trasformazione gli eventi di cambiamento non sono in quest'anno ma nel nuovo anno geofisical and climatic events and the contact of the extraterrestrial creatures with Nibiru eventi geofisici e climatici e il contatto con le creature extraterrestri con Nibiru gennaio gelmini 11 dicembre 2014 grazie so maga cartosti Grazie a tutti